ciao ragazzi bentornati al canale praticamente oggi faccio il famoso video dei segreti di youtube che non è che me li sono inventati comunque io ho fatto 50.000 sbagli quindi questo è il primo video dovrò iniziare da qualche parte quindi questo è il primo segreto il primo segreto è iniziare iniziare il canale perché tutti sono in quella situazione di zero iscritti ci hanno zero iscritti tutti che hanno iniziato anche il business online anche la la scrittura dell'ebook anche hanno aperto non lo so anche un business vero non per forza online tutti hanno iniziato con zero zero persone zero clienti zero iscritti zero like zero commenti quindi dovete sapere prima di tutto questa cosa qua praticamente dopo la crisi economica del 2008 youtube è diventata una fetta importante del mercato che praticamente nel 2020 solo con la monetizzazione sono stati ottenuti 20 miliardi di dollari nel 2020 quindi dopo la crisi del 2008 youtube perché youtube è iniziato nel 2006 2007 quando il primo video ha fatto i 100 milioni di questo famoso che faceva parte di google che è andato allo zoo e ha fatto 100 milioni di video quindi si è capito il potenziale che aveva questa piattaforma ma adesso praticamente è diventato il nuovo rinascimento del lavoro che praticamente youtube stanno lavoro adesso nel 2022 a 30 milioni di persone che hanno tipo 6 0 quindi ci hanno sono diventati ricchi comunque migliaia e migliaia e milioni di persone hanno una fonte di reddito quindi anche io per adesso il canale per me è una mancia siccome ho lavorato anche nella ristorazione per qualche mese ho visto le mance quindi per me youtube è la mancia poi spero che diventi il primo tassello importante cioè che io carico il video diventa un buon business online e posso avere il salario insomma quindi c'è una strategia da seguire quindi ci sono le famose 7 c in inglese in inglese se pensi che serve courage cioè uno deve avere il coraggio di buttarsi in un progetto online clarity cioè la chiarezza nella mente qual è il progetto cioè uno deve averlo chiaro quindi ci sono vari esempi per esempio uno dei più famosi per me è bruce lee che lui quando arrivò negli stati uniti lui aveva già chiaro qual era il suo progetto poi il canale punto 3 il canale ti diventa una parte di te stesso quindi il canale è una una big si una grande c che devi avere il coraggio la chiarezza della mente e il canale sapere dove deve andare il canale poi devi contenuti perché comunque non è che se carichi qualsiasi video a caso deve avere dei contenuti di intrattenimento e che creino interesse poi deve avere la quinta c la community cioè la comunità che ti aiuta quindi vanno bene i gruppi facebook vanno bene reddit va bene anche avere la pagina facebook il gruppo telegram perché quella è la community che ti supporta nei momenti che ti sembra che il canale fermo perché a volte succede così il canale fermo io so di persone che hanno lasciato abbandonato la community e il canale senza fare i nomi nella youtube Italia poi deve avere il cash il cash e sarebbe il guadagno perché se tu fai una cosa che ti piace e non guadagni quello è un hobby ma se tu fai un guadagno dalla cosa che ti piace si c'è anche in giapponese ikigai c'è il lavoro che ti piace e quindi guadagni quindi hai un ritorno economico quindi se no rimane ubri invece se vuoi che diventi un business online una fonte alternativa di guadagno deve avere un ritorno economico poi il punto numero 7 la costanza perché youtube non è una gara sprint youtube nello sport sarebbe più come una maratona quindi sono rari i casi che mettono un video e esplode la maggior parte il 75 per cento dei canali è perché ci ha messo costanza e non sono nati per caso questi canali ma perché l'algoritmo li premia a una scelta quando tu metti thumbnail giusti descrizione giusta tag giusti il canale lo premia youtube quindi passiamo a ogni punto quindi il coraggio praticamente non è che vuol dire che tu non hai paura coraggio vuol dire che tu accendi il coraggio nonostante la paura perché la paura cioè siamo tutti timidi perché quello è una cosa grande anch'io per esempio la mia debolezza è un po' la timidezza quindi questa cosa di riprendersi con la telecamera già affronti la tua timidezza quindi questo si chiama coraggio il coraggio non è non avere paura ma affrontarla senza rimanere fermi quindi un grande scrittore Zig Ziglar pensatore americano ha detto non sei non hai bisogno di essere grande all'inizio ma iniziare a essere grande cioè non è l'inizio è l'arrivo comunque lo dicono anche Aldo Giovanni e Giacomo il leone si deve svegliare prima la gazzella prima devono correre e dei business online è così quindi c'è anche la paura di essere giudicati e anche la paura di avere dei commenti negativi o le famose critiche distruttive quindi bisogna avere il coraggio di affrontarle queste cose quindi devi armarti il coraggio e iniziare iniziare a caricare i video affrontare i commenti negativi e il troll perchè purtroppo questo è uno dei punti che nessuno dice purtroppo è pieno di persone negative su youtube e troll che ti commentano commenti che non c'entrano niente quindi è una realtà e ti devi preparare a quello ma anche se hai un business vero negozi ti devi preparare alla fetta di mercato che gli stai antipatico se sei antipatico solo perchè hai aperto il canale non perchè ce l'hanno in particolare con te ma perchè loro hanno qualcosa in particolare nella loro vita quando uno è negativo e diventa troll è perchè ha problemi lui non perchè hai problemi tu quindi anche affrontare la paura del fallimento che è un'altra cosa importante è bello non so dove vado dello sconosciuto che tutti abbiamo il famoso punto di non ritorno quindi tutti si inizia con zero iscritti quindi dovresti imparare a intrattenere magari ti fai anche un bel corso in teatro è come intrattenere gente è come essere divertente ci vuole del tempo e devi trovare una forte motivazione più grande della negatività dei commenti e della paura quindi devi avere una motivazione radice più grande cioè vorresti ispirare gente della tua community a continuare a crescere per esempio per me la mia motivazione è aiutare persone a avere una migliore situazione economica che è nobile quindi la paura va trascesa quando tu hai una forte radice una forte motivazione una forte motivazione la paura la trasce quindi non ti devi lasciare bloccare dalla negatività quindi per bloccare la negatività hai bisogno anche di una comunità coraggiosa non solo tu sei coraggioso nel costruirti il canale nell'avere in mente bene dove deve andare il canale ma anche la community deve essere coraggiata come te e deve avere pazienza perchè su youtube uno dei punti saldi è la pazienza come in tutte le cose quindi avere un'ottima community ti incoraggio a trovare la tua mission per il canale poi purtroppo le persone questa paura la alimentano con falsi miti e dicili leggende metropolitane su youtube ci sono anche su youtube quindi la prima è che youtube ci sia troppa gente su youtube ormai si è fatto tutto ci sono troppi canali questo è un falso mito perchè su youtube ci sono ogni giorno 3 milioni 3 miliardi di persone che entrano quindi c'è spazio per tutti per qualsiasi canale attualmente è uno dei migliori periodi per aprire un canale adesso o eri picco della mirandola che avevi l'intuizione nel 2007 o sennò va bene adesso perchè dopo il virus comunque nuovi business si stanno stanno emergendo e anche con molto successo comunque sta diventando importante come la televisione poi alcuni pensano un altro falso mito che non ci siano abbastanza soldi quando devi iniziare deve avere un budget invece adesso se hai il wifi e un ottimo smartphone anche di media di medio costo puoi già iniziare a fare i tuoi video poi il terzo falso mito pensare che devi essere un super talento perchè tu vedi i famosi di youtube e li vedi che sono talentuosi che hanno un'inquadratura giusta sembra un figlio in realtà devi creare valore nei video cioè quello che guarda il tuo video pensa che c'è un valore che c'è una buona storia un buon contenuto e quindi non c'è bisogno di avere chissà quali skill per creare questi ma quei punti che ho detto prima il coraggio il contenuto il canale quando fai tutti i sette punti allora le persone iniziano a vedere valore nel contenuto puoi pensare che non ci sia abbastanza tempo quando praticamente per ottenere un canale di successo bastano quattro ore al giorno diciamo quando hai già un seguito quattro ore basta ma quando inizi sono quattro ore alla settimana per iniziare lavori quattro ore alla settimana tra riprese montaggi e puoi iniziare a fare il primo video perché magari il primo periodo fai un video alla settimana o un video ogni due settimane comunque iniziare un altro mito è non ho una community abbastanza grande cioè non ho persone che mi vedono questo è un altro falso mito perché youtube praticamente è come una radio o come una televisione uno ci arriva anche per caso nel tuo video se tu non crei contenuti come come fanno a vederti quindi non è vero ti possono anche scoprire per caso oppure fai il video che ti diventa virale oppure fai un contenuto ad alto range di views quindi ti guardano anche da dall'america che nessuno poi un altro punto qualcuno ha già pensato questa cosa qua è un altro falso mito perché si questa cosa delle idee tutti usano le idee degli altri tutti sono imitazioni di qualcuno tutti hanno avuto il loro esempio a scuola ma anche l'hanno visto nella musica anche nei film tutti hanno una persona che li ispira però questo crea marketing non crea non è che ti togli spazio vuol dire che c'è più spazio c'è più soldi in monetizzazione quindi questa è una cosa buona quando tu sei ispirato da altri contenuti da altri canali questo crea marketing quindi questo è il primo solo il primo video perché questa cosa dei segreti di youtube praticamente sei tu il segreto di youtube come tu ti poni se tu ti poni che ti meriti i diecimila iscritti li otterrai c'è la legge di attrazione anche ovviamente ormai la legge di attrazione su tutto se tu ti poni per esempio io so di questa famosa fashion blogger il canale l'ha impostato faceva lo studio faceva vedere di cosa voleva parlare e poi ha fatto i bigliettini da visita quindi quando andava in pizzeria lasciava il bigliettino da visita comunque lo la prendi come un vero lavoro cioè fai i bigliettini da visita fai le magliettine fai i cappellini fai i gadget io li sto già facendo nel canale solo che purtroppo youtube li blocca praticamente io ce li ho già collegati con il canale ma si possono vedere solo dagli stati uniti se volete entrare e vedere i miei gadget dovete andare nel link sotto perché comunque lo metto se qualcuno gli piace il cappellino e se qualcuno è intenzionato a prendere il mio gadget comunque io gli spiego come avere lo sconto e pagarlo meno perché purtroppo spreadshot fa certi prezzi quindi dovete prendere la magliettina meno costosa perché spreadshot mette la cempion la cempion costa 27 o 25 dollari invece dovete mettere la meno costosa che costa sui 12 dollari quindi se avete un ottimo con spese di spedizione nella stessa nella maglietta comunque perché il buono di spreadshot sono spese di spedizione che non sono molto alte quindi vi metto il link sotto comunque questa cosa dei segreti ricapitolando dipende tutto da te devi avere una chiarezza qual è il contenuto del canale e anche togliersi dall'idea dalla testa certe dicerie ormai ne parlano tutti ormai si è già fatto tutto non è vero su youtube ci sono miliardi e miliardi di persone ogni giorno quindi basta mettersi registrare e avere una forte motivazione quindi ci vediamo al prossimo video ciao